Buongiorno, in questo lunedì un po' nebbioso, volevo fare una tirata di oracoli rispetto alla luna nuova di ieri. Ieri è stata una giornata intensa che ha avuto bisogno di molto silenzio per poter ascoltare ciò che si stava muovendo dentro. Ragione per cui ho anche rimandato la diretta, però stamattina ero curiosa più che altro di confermare un sentire che è stato molto potente ieri, ieri e di fatto i giorni precedenti e di fatto ancora ad oggi. Quindi ho tirato fuori le carte e sono uscite questi tre oracoli ed è molto interessante perché il primo oracolo che è uscito è il Nawal, il secondo oracolo è Urano il terzo oracolo è l'apertura poi andremo a vedere e scopriremo insieme qual è il quarto ma qui c'è molto da dire su questo innanzitutto il Nawal, ne abbiamo parlato per chi ha seguito le dirette sulle carte è una delle mie carte preferite innanzitutto perché rappresenta un archetipo che non è solo un archetipo in realtà, è proprio una manifestazione energetica che abbiamo tutti quanti è una manifestazione energetica sciamanica, quindi gli uomini e le donne di potere in Messico, quindi nelle culture precolombiane hanno la capacità di utilizzare il loro lato luce e il loro lato ombra a loro disposizione come strumenti di evoluzione, come strumenti di aiuto, come strumenti di trasformazione e ricordo in questo ambito, in questo spazio, magari poi ne riparleremo ma è che per le culture antiche la luce e l'ombra non sono giudicabili ma sono parti di una stessa cosa purtroppo qui nella nostra cultura entra molto la mente contaminata da una cultura sociale dove il giusto e lo sbagliato, la luce e l'ombra, il bene e il male sono stati ben catalogati e ben caricati di tutta un'energia che inevitabilmente per quanto possiamo aprire la mente dobbiamo tenere in considerazione in considerazione come un condizionamento culturale come un'egregora sociale della nostra cultura bene, il nagual è l'altra faccia del tonal nagual e tonal sono due facce della stessa cosa cioè due aspetti di luce il tonal, ciò che noi siamo alla luce del giorno nagual, ciò che noi siamo nell'oscurità ok? quindi il nagual è un animale di potere in cui si potevano trasformare gli sciamani, gli uomini e le donne di potere si potevano, si possono, è una cosa che è attuale noi ci possiamo trasformare attraverso la conoscenza ovviamente dell'arte e dell'energia nel nostro animale di potere e in questo caso io l'ho rappresentato nelle carte come un richiamo di un qualche cosa che ci conduce attraverso la nostra oscurità e ci protegge mentre noi stiamo attraversando il nostro buio la nostra notte oscura ed è interessante che viene come prima carta di una luna nuova in scorpione che sappiamo bene essere un'amplificazione dell'ombra e ogni volta che si amplifica l'ombra si amplifica il potenziale di luce e come dico sempre attraversando quell'ombra noi possiamo trasformarla nella luce più grande che abbiamo mai visto quindi in base a quanto riusciamo ad entrare nel processo tanto più avremo dall'altra parte una trasformazione una quantità di oro a cui possiamo accedere quindi il Nagual ci accompagna ci accompagna in questa esplorazione notturna delle nostre parti ombrose sono le nostre parti di potere quelle che rifiutiamo stanno proprio nascoste nell'ombra e stamattina io mi sono svegliata pensando che in realtà la luce è molto più potente dell'ombra ed è vera questa cosa ma per arrivare a poter sostenere la vibrazione di luce che tutti cercano spasmodicamente bisogna aver conosciuto la propria ombra altrimenti quella vibrazione di luce ti uccide e quindi non è così immediato accedere a tutta quella luce e qui c'è Urano che ci fa vedere ma che cos'è l'archetipo di Urano? l'archetipo di Urano è il fulmine a cercereno è l'energia più elevata che arriva come un fulmine a spaccare ciò che è rimasto fisso e ciò che impedisce di tirar fuori la propria unicità e lo distrugge Urano è proprio la rappresentazione di ciò che è per esempio l'energia dell'arcangelo Michele di cui tutti si fanno portatori della sua voce ma l'arcangelo Michele non è un'energia comoda da tenerla vicina è un'energia che sprona è un'energia che risveglia è un'energia che ti scuote completamente finché non ti lascia completamente nudo anche della pelle te la sradica la pelle perché quella pelle se contiene le memorie ancora di ciò che deve essere trasformato non può rimanere tale ed ecco che Urano interviene dove ad illuminare a sradicare infatti la luna di ieri non era congiunta a Urano perché Urano è adesso a 8-9 gradi del toro opposto appunto alla luna che era congiunta al sole in Scorpione ma comunque sia dall'altra parte Mercurio che si sta opponendo diventa carico di questa energia che si aggiunge all'energia della luna nuova che vuole sradicare che cosa vuole sradicare tutto ciò che ci impedisce di aprirci a qualche cosa di nuovo tutto ciò che ci impedisce di uscire dalla scatola vi ricordate chi ha visto il video dove noi siamo rinchiusi dentro non ci può essere un'apertura se non usciamo dalla nostra scatola qual è la nostra scatola? tutto il sistema di credenze il modo in cui vediamo la realtà fuori di noi quella è la nostra scatola sono i nostri condizionamenti perché noi da adulti vediamo le cose più facilmente attraverso i modelli del passato questa è una cosa che le neuroscienze l'hanno l'hanno confermato con gli studi scientifici del nostro cervello quindi rimaniamo imbottigliati nei modelli del nostro emisfero sinistro che incomincia a guardare il mondo attraverso i modelli con cui ha vissuto il passato perché? perché in questo modo è più semplice vivere allora se io so che se tocco il fuoco mi brucio allora il mio cervello ha creato un modello per cui il fuoco brucia non lo toccare per esempio ma se io vedo qualche cosa che mi ricorda il fuoco ma non è il fuoco io non lo toccherò perché la mia mente starà creando lo schema vecchio che molto probabilmente io se lo tocco mi faccio male e allora starò evitando di guardare qualche cosa con gli occhi dello stupore della prima volta perché mi sembra di conoscerlo già e questo è un grande inganno per questo serve l'energia di urano per questo serve attraversare l'ombra perché attraversando l'ombra in protezione perché questo ci dice che noi siamo protetti in questo processo se ci affidiamo alle forze divine al disegno divino noi siamo protetti in questo processo tutto sta accadendo esattamente come deve accadere né più né meno la differenza chi la fa io tu ognuno di noi nella propria vita in base a quanto riesce a fare il cambiamento di visione per aprirsi a un qualche cosa di completamente nuovo il 2021 ci insegnerà tutto questo ci spingerà a sradicare tutto quanto ancora di più di quest'anno sicuramente con eventi diversi ora andiamo a vedere qual è la quarta e guardate un po' il rifiuto che è trasformata nel suo diamante che cosa ci dice il rifiuto è l'accettazione è l'accettazione di tutto ciò che è così com'è malentrata nelle mie ferite in questo momento più che mai dove io mi apro a vedere fuori dalla scatola le cose in un modo più ampio come se non sapessi nulla come se fosse un bambino appena nato lasciando andare gli schemi vecchi e dire io non so niente di quello che sta accadendo e se io non so niente non lo voglio interpretare con i miei modelli vecchi del passato con le mie paure e le mie ferite che cosa vedo posso accettare quello che ho davanti senza volerlo storpiare dalla ferita che mi ha fatto male nel passato ma che quello è solamente il passato cosa accade nel mio presente che io devo accettare o praticare l'accettazione e nel momento in cui lo accetto così com'è posso accedere alla nuova visione che l'apertura mi sta dando e la nuova visione è che il dolore è fine a qualche cosa di più elevato di uscire dallo stato di vittima nella mia goccia di sangue per poter accedere al mio stato elevato di coscienza attraverso il processo di trasformazione della mia ferita attraverso il processo di trasformazione di tutto il buio che sta venendo fuori e in tutto questo io continuo a essere protetta da un'energia di luce che vuole accompagnarmi in questo processo di trasformazione totale di me ora notate che in questa carta che io adoro che cosa c'è al centro Giorgio che le ha disegnate io quando lo conobbi dissi ma tu lo sai che canalizzi un'energia aliena e potete notare l'alieno che c'è lì noi siamo alieni noi veniamo dalle stelle siamo parte di una stella di fatto ancora stiamo cercando fuori gli specchi che ci confermino che anche noi siamo speciali invece di riconoscere quanto siamo speciali e di iniziare a contattare dentro di noi veramente il grande potere che abbiamo il grande potere che abbiamo è il potere proprio quello che ci sta mostrando questa tirata di carte attraversa la notte oscura perché nella notte oscura il tuo nagual si attiverà perché ce l'abbiamo tutti quanti cioè si attiverà un animale di potere una forza di potere che ci permette di accedere alle nostre risorse che solamente stando nell'ombra attraversandola perché non dobbiamo rimanerci fermi noi camminiamo camminiamo attraverso il bosco scuro e inizieremo a notare tantissime cose si attiveranno le nostre capacità sottili perché quando la luce di urano la fiamma il fulmine a ciel sereno ci risveglierà con quattro schiaffoni probabilmente noi potremo accedere all'uscita da quella scatola la nuova apertura e all'accettazione di ciò che è naturale nella vita cioè questo processo che avviene ogni giorno ogni volta che c'è una crisi che c'è un dolore che c'è un momento come questo in cui siamo veramente chiamati a fare la differenza bene questo video rimane registrato ricordo a tutti che le carte del sole della luna sono acquistabili vi potete scrivere e vi auguro una settimana meravigliosa